Le cuffiette, un elemento elettronico molto probabilmente parte del registratore di Mattias Schepp, sono stati trovati sui binari della stazione ferroviaria di Cerignola Campagna, su quegli stessi binari dove il pare di Alessia e Livia, le bambine scomparse al 31 gennaio scorso, si è ucciso gettandosi sotto un treno in corsa. I pezzi sono stati inviati a Milano dove si trova la filiaia della ditta giapponese Olympus che produce quel tipo di registratore. I tecnici dell'azienda, grazie ad alcune fotografie però, avrebbero confermato già che quelle cuffiette e quell'elemento elettronico fanno parte di un registratore. Una buona notizia dunque per gli investigatori. Secondo quanto raccontato anche dalla moglie dell'uomo Irina Luci di Schepp andava in giro sempre con quel piccolo apparecchio elettronico su cui registrava i suoi pensieri e le sue sensazioni. In particolare gli investigatori sui binari della stazione ferroviaria hanno trovato le cuffiette e un componente elettronico dell'alimentatore del registratore. Secondo i dati forniti ai tecnici di Milano i pezzi trovati sarebbero di un registratore Olympus Pearl Corder SP28, un vecchio modello a microcassette, proprio marca e modello dell'uomo come confermato dalla moglie di Schepp. Gli investigatori sperano che l'uomo possa aver registrato frasi importanti per capire che fine abbiano fatto le sue due figlie. Le parti del registratore sono state trovate pochi giorni dopo che la polizia e volontari avevano trovato, sempre a lungo i binari della stazione di Cerignola, il microchip del navigatore satellitare di Schepp. Per questo motivo la polizia ha confermato che le ricerche riprenderanno lunedì mattina concentrandosi sempre sui binari della stazione ferroviaria del centro Fantino con molti più volontari. La speranza di poter recuperare il nastro che anche se rotto potrebbe essere comunque leggibile.